Buongiorno, anche stamattina il mio ennesimo video, se stoppa dalla diretta Facebook, ripeto buongiorno, anche stamattina il mio ennesimo video rappresentante l'orizzonte a est della piana di Venafro e mentre vi faccio vedere la solita alea bianca, vi rappresento un esempio che mi è venuto adesso a mente. C'è una macchina, c'è una barmitta e dalla barmitta esce fumo. Ok. E quindi quel fumo che cosa fa? Si respirato. Penso che non sia molto salutare. E allora occorre anche fare i controlli per andare a vedere se quella macchina può circolare o meno. Ricordate la storia di Audi. Audi ha avuto una multa salatissima perché vi ricordate cosa accadde, no? Con le centraline. Ok, no, mi è venuto in mente questo esempio. Non so perché. E naturalmente quello è il Levante con il Matese celato, nascosto da quell'alia bianca bianca. Ah, poi naturalmente ritornando alla marmitta. La marmitta non caccia sempre fumo. Però una volta rilasciatolo, se ristagna, ovviamente rimane. bene. E vabbè, questo è il Levante, dicevo, e questo è il Ponente. Qua la montagna si vede. Il giorno e la notte.